ciao a tutti e bentornati sul mio canale quest'oggi affronteremo in questo terzo tutorial le le altre stazioni chiamiamole semplici presenti sul sub allora avevamo visto nel primo appuntamento la schermata iniziale che troviamo quando entriamo in dangerous water nel secondo appuntamento secondo episodio avevamo visto il periscopio e il laser finger oggi vedremo se ce la facciamo la stazione radar e la stazione sm e direi basta tanto la prima schermata che questa più o meno avevamo già vista nella nel primo episodio vengono riportati più o meno gli stessi valori di navigazione che possiamo trovare in basso a destra allora la schermata radar la prima cosa a dire per quanto riguarda il radar è che è un sensore attivo ossia un sensore attivo permette individuazione da parte delle altre unità mi spiego meglio se noi utilizziamo un sensore passivo non emettiamo nessuna sorgente elettromagnetica o sonora se noi utilizziamo invece un sensore attivo il sensore attivo funziona proprio emettendo una sorgente elettromagnetica o sonora per quanto riguarda il radar per poter funzionare lui emette un emissione elettromagnetica a 360 gradi quindi se noi per assurdo abbiamo un'unità nemica per esempio qua che dista da noi 33 miglia sicuramente appena attiviamo il radar sentirà la nostra presenza e dopo vi spiego come allora il radar si attiva come tutti gli altri sensori ossia cliccando su raise il radar ready è un led in cui si dà all'operatore ossia noi la comunicazione che il radar è attivo e funzionante il range è la portata massima del radar allora il centro siamo noi ovviamente la portata massima sarà il perimetro esterno quindi se ne mettiamo 20.000 yards il perimetro esterno corrisponderà a 20.000 yards se ne mettiamo 5000 il perimetro esterno corrisponderà a 5000 yards abbiamo la possibilità anche di visualizzare dei cerchi che ci permetteranno di avere una visuale più chiara di dove si possa trovare il nostro versaglio quindi non sono altro che delle suddivisioni ad esempio per 20.000 yards se noi mettiamo 20 range ah no forse ho sbagliato perdono allora questo è il range il range del radar in effetti è una sua logica quindi ricapitoliamo questo è il range ehm 10.000 yards 20.000 yards 30.000 yards 40.000 yards 50.000 60.000 yards se noi attiviamo il range rings eh diciamo alla macchina ogni quante yards vogliamo un cerchio allora quindi disattiviamo un attimo il range rings attiviamo il radar ok e questo è il radar in funzione una volta tirato su il radar è già in funzione non dobbiamo dirgli di attivarsi infatti abbiamo il led rosso qua allora le X che possiamo vedere sulla schermata sono i contatti che il radar rileva marco 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 e li troviamo sulla schermata navmap contrassegnati da R che sta per radar infatti qua vediamo che la sorgente con la quale è stato rilevato il contatto è radar 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 allora una cosa interessante da notare che noi abbiamo una mi sembra car carry car fair no una porta container di qua ma se ricordo bene ok infatti abbiamo anche una una fishing boat quasi davanti a noi che il radar non rileva perché dovrebbe essere questa questo dovrebbe essere la porta container dovrebbe essere più o meno qua eh togliamo su bridge allora 47 birring 47 ah però è relativo il birring che io vedo dal no è giusto oh my god questo è questo è la prua del si è la prua perché questa è la poppa quindi questa è la prua io sto andando per 45 se io prendo questo eh no infatti è relativa quindi per trovare l'avevo trovata prima adesso non la troverò mai più ecco la fishing boat che a 340 vuol dire che mi devo spostare di 20 gradi ossia di 25 a 25 birri in assoluto ok è più o meno su questa linea la fishing boat il radar non la rileva non perché sia fuori portata perché è la porta container che è molto più lontana la vediamo ma perché è troppo piccola e sfugge al contatto radar quindi può capitare anche questo ossia di avere effettivamente un contatto ma di non riuscire a rilevarlo ok la posizione un'altra cosa importante da dire sul radar che è la posizione con cui in cui marchiamo il contatto è la posizione reale o se non abbiamo bisogno di calcolare distanza o mica distanza è quella che riusciamo a rilevare infatti a differenza dei contatti eh riscontrati con il sonar non abbiamo nessuna linea che collega come primo contatto il nostro sub al contatto rilevato bene non è che ci sia molto altro da dire sulla stazione radar quindi direi di vedere io nel frattempo ricarico l'aria ok la la seconda stazione che vorrei vedere oggi è la stazione ESM e radio infatti come potete vedere è suddivisa in due la schermata una parte superiore e una parte inferiore allora attiviamo l'ESM l'ESM è un sensore passivo ossia attivandolo non emettiamo nessuna sorgente né acustica né elettromagnetica al contrario invece l'ESM è un sensore che ci permetterà di captare tutte le emissioni elettromagnetiche e infatti quando prima vi dicevo che il nostro radar sarebbe potuto essere captato da un'ipotetica unità posta nelle nostre vicinanze mi riferivo proprio a questo ossia l'ESM è quel sensore che ci permette di rilevare il B ring e il tipo di unità che sta emettendo quel tipo di segnale adesso lo attiviamo così facciamo subito un esempio pratico ok eccolo 1 2 3 ok come potete vedere ci sono 3 contatti questa volta il primo che è in linea con radar 02 il secondo che è in linea con radar 03 e il terzo che è in linea con nulla ma che è la nostra fishing boat che non riesce aspetta che mi tolgo da qua perchè sennò mi impazzisco ok il terzo contatto dicevo è questo è quello che non siamo riusciti a rilevare prima con il nostro radar allora se riusciamo ecco se noi puntiamo il nostro sensore sul B ring dove sentiamo l'emissione se il segnale è abbastanza forte il computer riuscirà ad analizzare il segnale ci dirà che unità sta emettendo quel segnale ad esempio una fishing boat questo che è un segnale abbastanza debole il computer non riuscirà a processarlo e quindi segnalerà solo la presenza del segnale ma non il tipo di e invece l'ha segnato per poco me l'ha segnato Armored Civilian vediamo come on attendiamo fiduciosi Armored Civilian Container Ship ok allora dovrebbe essere uguale a questo vediamo o non qua Armored Civilian ok dovrebbe avere variato e infatti è variato anche questo perchè gli abbiamo dato il tempo di leggere è molto comodo l'ESM per due motivi il primo è che ci da se possibile un'esatta indicazione di che tipo di contatto stiamo osservando il secondo è l'indubbio vantaggio di essere un sensore passivo allora sia il radar sia l'ESM è possibile utilizzarli anche in immersione ok questo comporta il fatto che senza emergere possiamo ahi ahi dai dai ok dicevo senza riemergere possiamo fare una scansione del contesto che abbiamo sopra la testa ok la parte sopra nella schermata dell'ESM station a ESM dovrebbe stare per ehm elettromagnetical signal measurement dovrebbe essere comunque misurazione di il 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 segnali elettromagnetici allora mmm rimane la radio la radio può funzionare in due modi radio antenna floating wire antenna sono tutte e due antenne fanno tutte e due la stessa cosa la radio antenna può essere estratta quando il sommergibile è a quota periscopica o in immersione e permette di ricevere segnali messaggi radio ma in questo caso non arriva niente perché non ho settato nella missione tutorial alcun messaggio radio potevo farlo mi sono dimenticato e dicevo permette di ricevere messaggi radio che possono essere trasmessi durante una missione oppure che può essere usata vediamo se esatto per promuovere a link un contatto promuovere a link un contatto significa far sapere a tutte le altre unità alleate che noi in quella data posizione abbiamo rilevato un contatto se le altre unità del nostro site della nostra alleanza hanno l'antenna estratta riceveranno la nostra informazione la floating wire se ci emergiamoci scendiamo un attimo di profondità per vedere il funzionamento della floating wire dicevo la floating wire si comporta come l'antenna che abbiamo visto poco fa il vantaggio è che può essere estratta mentre siamo in immersione quindi non siamo costretti a salire a quota periscopica adesso andiamo di aumentare un po' così da farvi vedere ok ci stiamo scendendo 120 feet perfetto quindi attiviamo la antenna filata e dovremmo vederla comparire esatto qua e si andrà a posare sulla superficie una volta arrivata alla superficie una volta arrivata in superficie permetterà la ricezione dei messaggi radio questo tipo di antenna ha un unico svantaggio ossia che a differenza dell'antenna vista in precedenza non permette la promozione di un contatto al sistema link ok però normalmente sono le navi di superficie a fare il lavoro sporco ossia promuovere i contatti alla rete link quindi è diciamo uno svantaggio relativo se noi sottomarini dovessimo rilevare un contatto e dovessimo avere la necessità di promuovere la link dovremmo fare una scappata a sua quota periscopica e con l'antenna quella non filata quella proprio ad antenna per intenderci potremmo potremmo promuoverlo quindi stazione radar stazione ESM e radio ovviamente ogni stazione che noi troviamo aprendo il menu in basso a sinistra è raggiungibile tramite i tasti funzione sulla tastiera e funziona con F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 la schermata di navigazione F2 il sonar F3 il radar F4 le SM F5 la TMA no la Novmap F6 l'armamento F7 TMA ok ok allora credo che sia tutto per la per l'episodio di oggi allora abbiamo visto radar SM promozione a link sì credo che per oggi possa possa bastare quindi vi ringrazio ciao a tutti e ci vediamo la prossima volta ciao ciao